La rivoluzione sta arrivando, sì, sta arrivando. E quello che deve fare una rivoluzione deve prima passare attraverso l'individuo, le persone. Tra noi sei, una band che scrive un disco, che lo pubblica, sicuramente sono successe delle piccole rivoluzioni. E anche un po' è riferimento alla rivoluzione, evoluzione che torna nello stesso punto e diventa ciclica. E che cosa c'è di ciclicolo in questo senso? Per me c'è il senso della vita, questo viso pieno di vita. È un'evoluzione anche per il corso live, perché partirà da un concept completamente diverso e nuovo. E per me sarà un spunto anche per creare un po' un filo conduttore dall'inizio alla fine dello spettacolo. Ci teniamo, insomma, a costruire anche in quel caso, quando abbiamo fatto un disco, tutto un discorso che possa lanciare anche per live, anche un dubbio, anche un sogno, una percezione diversa. Il concept è quello di ripartire da se stessi per creare la rivoluzione, cioè rivoluzionando prima se stessi, in modo che se ognuno di noi si rivoluziona, tutto il mondo diventa una grande rivoluzione. Quindi pensare all'io in quanto parte di un sistema molto più grande. Grazie a tutti.